Signori, facciami seri per un momento. Signori, facciami selfie per un commento. Secondo voi sta bene? No. Credo che lui potrebbe dissentire. Amo fare shopping con l'amica del cuore! Devono aver fatto confusione alla fabbrica di giocattoli. Bianchina, va tutto bene? Smetti di peccare, sodomita fornicatore! Ti purificherò col mio sangue! Sono un po' nervoso, devo ammettere. Sì, eccomi qua! Benvenuto a Sburrone. Intendevo tornare per ammirare i poteri del cazzo lungo. Gandalf. Il database dei virus di Avast è stato aggiornato. Sai questo? Miracle Blade 3 rimarrà affilata per tutta la vita! Indispensabile per tritare! E allora, telefonate subito! Sembra che stiate facendo una gran festa lassù. Non ho mai visto una cosa del genere! Ieri qualcuno ti ha chiamato. Che? Sto cazzo! Ma la fa! E tra l'altro ne approfitto per ringraziarvi di tutti i commenti strappalacrime e torci budella che mi avete mandato. Ed ho solo detto che avrei smesso le recensioni. Penso se fossi morto!